Pronto! Pronto! Pronto Sissi! T'è, 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 t'è. Lass'ami... Non, non, non. No! Siss, no! Siss, no! Mi lasci parlare o no?! Ma, ssss... Beh, se fosse stato per me... Si, si... Ma io sono il... No! Io sono il primo! Non ho che... non... Non ho... Non ho... Non ho... Alla, mi lasci parlare? No! È una vita! No, 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 no! È una vita! No, 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 no! È una vita! No, 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 no! Perché non sarà una persona! Non sarà un'automa! Dire! C'è tutto un tuo dire! Vaffan... GOOOOOO! OOOOOOO! No! Tu! Il tuo negoo! Il tuo automa! Il tuo... Ossio, la tua merda! Mi fa schifo! No! 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 È una persona!